Ciao Paola, mi piacerebbe raccontarti il libro che ho appena finito di leggere, che mi è piaciuto molto, che è Cose che nessuno sa di Alessandro D'Avenia. Ma io ti amo, disse lui, aggrappandosi a quelle parole magiche, che non produssero però l'incantesimo sperato. Non è vero, tu sei fermo, professore, è amare un'altra cosa, è un verbo, un'azione, non è guardare un film su paesi lontani, ma andarci davvero, in due, due, valigie, fusi orari, attese, moltiplicati per due, asciugamani, spazzolini, letti, moltiplicati per due, caffè, lacrime, sorrisi, moltiplicati per due, tutto è raddoppiato, mentre le fatiche vissute insieme, condivise fianco a fianco, mano nella mano, diventano meno di uno. Ma io non sono pronto, nessuno è pronto, ti devi buttare, parli come un bambino che non vuole imparare a nuotare, sai come imparano gli anatroccoli a nuotare, lo sai? La mamma li butta in acqua e nuotano. Stella amava i documentari sugli animali, quanto i libri. La libertà, Stella, la libertà, tienitela la tua libertà e quando ti sentirai solo con la tua libertà, non venire a cercarmi però, come un adolescente tu sai sognare, ma come un adolescente credi che la libertà sia fare quello che vuoi e che i tuoi sogni si realizzeranno esattamente come li sogni, male a realtà, dove l'hai messa? Sognare dentro la realtà, questo rende i sogni più grandi, veri, palpabili, diventare adulti e trovare la pazienza per dare corso ai propri sogni, senza rinunciarci. Un professore e la sua musa, troppo ideale per essere reale, un professore innamorato dei suoi libri più che della sua donna. Una donna, Stella, che lo ama nella quotidianità, non nonostante essa. La loro vicenda si incrocia con quella di Margherita, alunna quattordicenne del professore, che invece quel coraggio lo trova e come, e come Telemaco, nell'Ulisse, si mette alla ricerca del padre, un padre che l'ha abbandonata troppo presto. Margherita intraprenderà questo viaggio con Giulio, il ragazzo spiantato, senza famiglia, che nessuno vuole, ma che a Margherita sente di appartenere fin dal loro primo incontro. Come finirà questo viaggio? Telemaco riporterà a casa Ulisse e il professore capirà che l'amore, quello dei suoi adorati libri, non serve a niente se non gli insegna a vivere. E tornerà da Stella, che non ha mai smesso di aspettarlo, non ha mai smesso di amarlo, e Stella lo accoglierà in maniera totale. La mia voce dirà solo a te, ti amo, disse Stella, e un'altra diga crollò, lasciando dilagare nel mondo la vita, che è fare uno di due. Lui l'abbracciò, e lei gli sussurrò qualcosa all'orecchio che avrebbe ricordato per tutta la vita, qualcosa che risolveva il segreto dell'amore, e vinceva la paura che l'amore fa, perché per amare bisogna perdersi ogni giorno è morire un poco, per questo ci vogliono così tante metafore, lei non ne usò, ma quello che le disse sono cose che nessuno sa. E invece una cosa che so è che dovreste leggerlo, perché a me è emozionato molto. Ciao a tutti, alla prossima!